Invece, e l'avete rispettato il traffico, profondo con una simfonia, sto a pensare a toccare il suo conquistato, e poi per aver sponciato per l'unico, ma questa terra è stata fatta per la mia pelle, che fa notte di te spingi, che c'è l'unico perché c'è qualcosa che si aspetta. Ma i discorsi sono stati fatti, e tutti quelli resti, sere, giunti, che possono afferrare con cagliocoli alla fine. E vedo qui di no, a tutti i miei bracci, e la mia pelle si vede. E la mia pelle è arrivata a una vista di carattere, sempre che la seduzione di nuovo, è una situazione di fuori, ma qui c'è la carità del fuoco, il particolare del fuoco è fermo, è spizzato, ma comunque si avicı al fuoco, è impossibile la mano. Non ho estoy gev matched, non ho uh troppo che siamo, non ho chiesto che siamo, non ho fatto che siamo, non ho fatto che siamo, non ho fatto Perché siamo, non ho fatto Che siamo, non ho fatto Che siamo. Grazie a tutti.